Ti servono crediti a prezzi bassissimi, contatta Francesco Salamone con il link in descrizione e con il codice FUSE avrai in subito il 5% di sconto Bene ragazzi, carichi come noma da FizzGamer Oggi ragazzi siamo col terzo episodio del compro al primo giocatore con la Road to Division 1 E ragazzi, nello scorso episodio ci siamo lasciati con tre vittorie ed un pareggio con la Ligue 1 Oggi andremo a fare la Serie A Quindi senza indugi, senza paure, andiamo subito a fare il compro al primo giocatore E' alla ricerca di un Mothma, un Iguainif, un Tevez Mothma, non lo so Dai, modulo 4-1-2-1-2 Partiamo subito con la Serie A, con il portiere, speriamo in bene Dai, portiere subito Andandovi, c'è si parte con il Butu Ok ragazzi, andiamo con il terzino destro Decidio, decidio, vabbè non è male però Dai raga, andiamo con il primo difensore centrale Speriamo che ci capiti un Chielliniif, un VDCif, non lo so Dai, Barzaghi, 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 va benissimo E andiamo con Barzaghi Dai per favore, un altro difensore buono Che ne so, De Vrij e Tozzo, non lo so Dai, 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 dai Chiellini, Chiellini cazzo, Chiellini lo compriamo subito Chiellini E andiamo Andiamo con il terzino sinistro, speriamo Zuniga Zuniga del Napoli E andiamo con Zuniga, è uno dei più baggati della Serie A Cioè, uno dei terzini sinistri più baggati della Serie A, penso Anche se non l'ho mai usato Andiamo con il Cdc Vai, forza De Rossi, De Rossi, De Rossi E al diabo Dai, raga, adesso esterno destro, vi do almeno un quadrato Così faccio le skills Dai Birs Mannaggia C'era Caglioni, fa fianco, cazzo Birsa, no, dai Dai, andiamo con l'esterno sinistro Speriamo Lulic Lulic Mortman Lulic Mortman E andiamo con Lulic Mortman Dai, raga, dopo questa scolata di Lulic Oggi un C.O.C. abbastanza forte Dai, 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 dai E Mertens Mertens Buggato Mertens Dai, è buggato Ragazzi, adesso si fa sul serio I primi Il primo attaccante Andiamo Dumbia, Dumbia, Buggato Dumbia per il Pizzellone Andiamo, Bandumbia Ragazzi, andiamo con l'ultimo giocatore di oggi Un'altra attaccante, speriamo Dai, 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 dai Rossi, va bene, va bene Va bene, Rossi Però guarda chi c'era accanto Gonzalo Iguain Va bene Ci accontentiamo di Rossi, però Ragazzi Ecco la squadra formata È abbastanza forte Dai, cioè Se è solo Zuniga Argento Quindi Una buona squadra Cioè Ci potremmo davvero divertire con questo team Speriamo di andare subito in divisione 8 Ed abbiamo trovato Lulic Mortman Quindi Vediamo un po' come se ne accava Poi c'è Mertens Dumbia De Rossi Dai De Rossi pure Che è Lini Zuniga Dai Andiamo subito con la prima partita di oggi In divisione 9 Già abbiamo ottenuto 3 punti Abbiamo ancora 9 partite rimaste Andiamoci a giocare la prima partita di oggi Andiamo Prima partita Lui ha Devo rotazione 74-85 di intesa Squadra strana Ma quel portiere di merda a porta Quindi Dai che ce la giochiamo Lulic La mette in mezzo Ci arriva Dumbia di testo Fa traversa Fa traversa Un nuovo palo No attenzione Attenzione Al palo Una ma No 1-0 Che culo Dai Primo tiro Primo gol Dai Recuperiamo Dai 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 Attenzione Mertens 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 fa andare Mertens per Dumbia Dumbia non può sbagliare E sbaglia No dai Dumbia come fai Attenzione Mertens Mertens per Dumbia Dai 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 Dumbia Dai per favore sul primo palo Vai Dumbia Traversa ancora Non è possibile Non è possibile Dai Rossi per Mertens Mertens De Rossi De Rossi Può calciare De Rossi De Rossi 1-1 Abbiamo 1-1 Di Rossi Che gran gol Dalla distanza Incredibile Mamma mia Gran gol di De Rossi Mertens Una finta Grande Mertens Vai 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 Mertens Mertens Vai Vai Mertens Mertens Che gol Che gol di Dries Che patta della meta al campo E andiamo Dries 2-1 Si capa oggi la situazione E andiamo Rossi Rossi Vai Rossi Rossi Incredibile Tanta concentrazione per questo gol E andiamo 3-1 Vai Rossi Rossi al volo Vai Rossi 4-1 Mamma mia Una goleata 4-1 Ancora Giuseppe Rossi Andiamo Andanovic La mette in mezzo Non ci arriva nessuno E finita la partita 4-1 Facile a punto hit Contro questo Incredibile E andiamo con la seconda partita di oggi Forza ragazzi Seconda partita di oggi GG GG vuoi andare? 8-8 di valutazione 100 di indesa Una Bundesliga Con Ramos Bisellone Barban Bisellone E Zonginesino Andiamo Facciamo battere Giuseppe Rossi Che da lì può far male Giuseppe Rossi Carica il sinistro Giuseppe Rossi 1-0 Mamma mia Che punizione Mertens Mamma mia La passa Birsa 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 L'uomo Che non ti aspetti Walter Birsa Se non mi ricordo male Che si chiama così Walter Birsa Vabbè Ma si chiama così Walter Birsa 1-0 E andiamo Ehi Walter Birsa Lo sapevo Lo sapevo Vai 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 Dai ragazzi Dai ragazzi Mertens Con destra Giro Ma è incredibile Ci riesce tutto oggi 3-0 per noi Mertens Mertens Incredibile Mamma mia Ci riesce tutto oggi Soprattutto a Dres Mertens Dai ragazzi Non ci fremmiamo più E' finita E' finita 4-0 Andiamo così Stiamo andando alla grande Con questo team Ragazzi Andiamo con la terza partita Di oggi Allora Vediamo La valutazione 78 di valutazione 87 di intesa Ebbè 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 Lukaku L'avanti Basta Lukaku Rossi 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 Subito 1-0 Al secondo minuto Andiamo subito così ragazzi Sono devastanti questi ragazzi E andiamo Subito 1-0 Vai 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 Rossi 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 che rientra Rossi ancora Rossi Andiamo 2-0 Ma questi qua fanno paura ragazzi Mertens Dunviar Rossi Sono I tre moschettieri E andiamo Mertens 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 E' incredibile Ma facciamo davvero paura Oh Mamma mia Rossi 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 La mette in mezzo De Rossi Sì Va bene Caccia di rigore Incredibile Lo faccio Rosso Va bene Lo facciamo battere a De Rossi O a Rossi Decisione molto importante Ma Alla fine Tire da Andanovic Andanovic Tira a destra E invece Centrale Va bene 4-0 Andiamo con D Andiamo Andanovic Dai che è finita Boom E' finita 4-0 Ragazzi Questo episodio Finisce qui Con tre vittorie consecutive Incredibilmente E ragazzi Matematicamente Già siamo in divisione 8 Quindi La partita Del Per vincere il titolo Non ve la farò vedere Perché Tanto è inutile Che zola faccio De a fa Ragazzi Se vi servono Crediti a prezzi bassissimi Contattate Francesco Salamone Vi lascerò il link Del suo profilo In descrizione Contattatelo E usate il codice FUSE Per il 5% di sconto E ragazzi Consigliatemi Qui sotto Delle lighe O dei moduli Per usare Nel prossimo episodio Del compro Primo giocatore Con la rotta Division 1 Ragazzi Un bel pollicino in su Iscrivetevi al canale Noi ci ribetchiamo Nel prossimo video Bella ragazzi La mattina la riembio La notte La ragazza Scrive